Ore calde per la definizione delle candidature al vertice della Regione. Una serie di incontri per lo più segreti non hanno prodotto alcun risultato né nella coalizione di centrodestra né in quella di centrosinistra. Da una parte i dissidenti di Donato Toma, ovvero Michele Iorio, Rosario De Matteis, Quintino Pallante e altri esponenti di centrodestra, tendono di convincere i partiti a sostituire il professionista campobassano con Roberto Fagnano o con qualche altra personalità di spicco della società civile per superare la logica in visa a tanti elettori di puntare su un candidato scelto nel segreto di una stanza. I movimenti civici invece con in testa Massimo Romano e Antonio Tedeschi dialogano con l'Ulivo 2.0 e non si esclude il loro sostegno a Roberto Ruta. Dialogo aperto anche tra Michele Marone e altri soggetti della società civile con gli ulivisti. Sul fronte del centrosinistra, gli incontri programmati tra la delegazione del PD, composta dalla dimissionaria Michela Fanelli, accompagnata da quattro esponenti della Federazione di Sernia e quella degli ulivisti, di fatto sono saltati dopo l'ufficializzazione della candidatura di Paolo Frattura da parte della segreteria del PD. Paolo Frattura è il nostro candidato scelto dopo un percorso di ascolto e un confronto con i vertici nazionali del partito, è scritto nella nota. Abbiamo provato con tutte le forze a ricostruire un rapporto con l'EU trovando chiusure che, ci auguriamo, possono ancora rimuoversi, conclude la nota. Immediata la replica di Danilo Leva. Il suicidio annunciato del PD non trascinerà in questa regione il centrosinistra nel Baratro. Abbiamo dato la disponibilità a valutare in più di un'occasione ogni nome terzo utile ad arrivare a una candidatura unitaria dell'intera coalizione, ma dopo più di una settimana l'unica proposta che il PD continua a fare è quella di Paolo Frattura, ha scritto Leva. Non c'è stata alcuna volontà di trovare un'alternativa in barba ad ogni esigenza di discontinuità da politiche di destra adottate dal Governo regionale in questi cinque anni delle quali i componenti dell'Aggiunta sono stati conniventi. Molise 2.0 addrà avanti per la sua strada, scelta da oltre 1.300 delegati che hanno già condiviso il progetto e votato all'unanimità la priorità programmatica a partire da un piano straordinario per il lavoro e da una sanità pubblica forte e di qualità. Siamo l'unico punto di riferimento di un mondo largo di centrosinistra e di un'area che è espressione del civismo della nostra regione. Guardiamo al 22 aprile a concluso Leva con la determinazione di chi vuole cambiare il destino del nostro Molise.